Ok, grazie. Un saluto a casa, sempre. Ciao mamma. Ciao. Ricominciamo molto volentieri. Spero abbiate riposato, ma solo dopo aver rivisto gli appunti, perché oggi toccherà un po' anche a voi affrontare le vostre idee progettuali, lo sviluppo delle iniziative, delle idee che nel corso di questo laboratorio complessivamente avete magari potuto affrontare. L'idea che avevo era quella di sottoporre ai temi che abbiamo visto insieme ieri le vostre idee o la vostra idea, io non conosco bene il meccanismo che state sviluppando da quando è iniziato questo laboratorio, me lo direte voi, e quello che appunto vi chiedo è di prenderci un pochino di tempo per elaborare qualche idea, qualche spunto calata molto nella realtà dei progetti appunto di cui vi state singolarmente o in gruppo occupando. Ditemi voi come preferite procedere, nel senso che siamo da un lato fortunatamente siamo un po' meno di ieri e quindi questa cosa ci permette anche di fare un lavoro magari più individualizzato sulle singole esigenze e sulla provenienza insomma di ciascuno di voi. La mia idea è che riprendiamo appena giusto con accenni velocissimi, ci riscorriamo velocemente le slide di ieri e recap, rifacciamo il punto sulla situazione e poi un po' di tempo per elaborare qualche riflessione, domanda, perplessità, eccetera eccetera, che poi discutiamo tutti insieme. Funziona? Funziona? Ok, quindi ieri cosa abbiamo visto? Oltre alle regole da tenere in classe che come sempre sono un buon metodo di partenza quello del dialogo costante, del considerare nessuna domanda futile e non avere timore, non avere pudore soprattutto perché qua siamo in una fase di apprendimento reciproco, anche mio, soprattutto mio in realtà, le regole da cercare sempre in realtà sono regole che hanno a che fare sia con la forma della comunicazione sia scritta che visuale insomma a seconda dei meccanismi con cui volete presentare i vostri progetti all'esterno, ma sono anche una disciplina interna sia per la gestione del vostro gruppo di lavoro del vostro team, della vostra organizzazione sia anche del singolo progetto cui vi state applicando in fase di elaborazione, in fase di stesura in fase di sviluppo il mio suggerimento è quello di considerare sempre la possibilità che abbiate fatto troppo, abbiate scritto troppo abbiate in mente troppe cose semplificate, fate un po' di pulizia fate un po' di riduzione consapevole soprattutto consapevole organizzate meglio le molteplici facce del vostro progetto cercate di condensarle in meno aspetti più facili da comunicare ma più facili anche per voi da gestire organizzate bene il tempo dedicate ogni passaggio alla verifica del fatto che abbiate imparato qualcosa di nuovo qualcosa in più sia su come si fanno le cose sia sul contenuto specifico delle vostre idee e iniziative valutate e tenete in grande considerazione le differenze non sto davvero a insegnarvelo questa è una lezione che se siete qui credo che abbiate già assunto valutate il contesto attenzione alla periferia dicevamo ieri la periferia è il luogo del margine dove succedono le cose dove c'è più fermento ed è dalla periferia che noi possiamo trarre gli spunti più efficaci considerate l'emozione come un fattore sia propulsivo della vostra iniziativa sia propulsivo della comunicazione di questa iniziativa di cosa può acchiappare il pubblico in ottica di fundraising ma anche proprio in ottica di partecipazione coinvolgimento valutazione e interesse verso il vostro progetto abbiate fiducia abbiate fiducia nella semplicità perché la semplicità ripaga ripaga sicuramente anche nel medio periodo non bisogna aspettare tempi biblici se si agisce con fiducia i risultati verranno presto accettate anche il fallimento perché l'errore è parte integrante del nostro percorso bisogna avere anche qui molta consapevolezza e seguire quelle che sono le indicazioni che ci provengono da un errore un errore di valutazione un errore di impostazione alla base se si riconduce il punto in cui in un bivio si è scelta una strada che era in realtà una strada morta piuttosto che un'altra allora tornando sui propri passi è possibile recuperare e migliorare e poi alla fine sottrarre l'ovvio e aggiungere il significativo come regola complessiva insomma parlavamo delle nove P che possono rappresentare i nove punti cardine in qualche modo della proposta di fundraising che vi ho presentato ieri abbiamo ragionato sul progetto prima ancora di ragionare su cosa vi muove abbiamo ragionato su cosa fare perché abbiamo visto che il punto del perché il cosa vi muove la mission le motivazioni più filosofiche e profonde se le mettiamo all'inizio del nostro ragionamento rischiano di inchiodarci a un eccesso di elaborazione allora mettiamole da parte per un attimo abbiamo tutti il frigo le teniamo lì in fresco tanto non si guastano e partiamo proprio dall'aspetto più materiale e operativo ragioniamo sul progetto come primissima cosa e valutiamo come questo progetto debba essere presentato come davvero qualcosa di molto molto materiale molto concreto molto operativo perché la necessità di denaro è comune a tutti ma a noi servono denari per una cosa specifica dobbiamo raggiungere il nostro ripeto specifico ciò che ci differenzia dal resto ciò che ci fa entrare in sintonia con gli altri da una porta che è privilegiata che è solo nostra in qualche modo e dobbiamo ragionare sul vantaggio di essere unici in questo senso quindi soldi per ma soldi che hanno a che fare anche con il fundraising non dobbiamo dimenticare che il fundraising ha un costo e che questo costo va contabilizzato all'interno del nostro bilancio di progetto ha un costo sia in termini di tempo di personale impiegato a un costo di materiali perché per fare fundraising bisogna bisognerà probabilmente avere del materiale per chiedere bisogna occupare tempo e risorse economiche per gestire le nostre liste che abbiamo visto essere il nostro grande tesoro liste pulite liste aggiornate liste di contatti e quindi appunto il costo del fundraising non deve essere distinto dal costo complessivo del nostro progetto successivamente abbiamo parlato di pubblicità che è duplice come in tutti i ragionamenti che abbiamo fatto la duplicità è all'interno della nostra organizzazione e il nostro progetto ma anche all'esterno della nostra organizzazione cercando di guardare con l'occhio di chi potrebbe sostenerci quindi rendere pubblico raccontare all'esterno ma raccontare anche a noi stessi le storie che la nostra organizzazione possiede sono storie che provengono dalla mission probabilmente da un episodio da più episodi che ci hanno motivato e coinvolti a tal punto da decidere da farci decidere di metterci al lavoro di farci fare qualcosa di nuovo di innovativo di risolutivo almeno nelle nostre corrette intenzioni la nostra storia di norma a un eroe contiene una sfida a un nemico un avversario una difficoltà una mancanza un bisogno non soddisfatto esiste il superamento di questa difficoltà e quindi la conclusione che ci porta verso un lieto fine consideriamo questi passaggi narrativi semplici come una delle chiavi di lettura con cui interpretare le nostre azioni nel complessivo utilizziamole convinciamocene e soprattutto cerchiamo di scriverle di comunicarle all'esterno quindi arriviamo alla mission la mission ci dice che come aspetto un po' più ideale meno concreto meno materiale non ci consente di essere assertivi al 100% definire la nostra motivazione come un ambito o bianco o nero ma dobbiamo invece ricercare le mille e più sfumature del grigio che fortunatamente non è un colore solo come scrivo nelle slide ma è proprio uno spazio molto ampio dove ciascuno di noi ciascuna organizzazione ciascun progetto trova il suo specifico il suo dettaglio la sua unicità di cui parlavamo prima questo grigio è la nostra forza è il nostro punto di identità forte dobbiamo ricercarlo con attenzione dobbiamo interrogare noi stessi e i componenti dell'organizzazione per cercare di capire qual è appunto puntualizzare al meglio la nostra la nostra mission è una mission peraltro variabile mutevole per fortuna mutevole nel tempo mutevole nello spazio mutevole perché molte persone arrivano arrivano nella nostra organizzazione magari da altre esperienze e quindi fare un tesoro di quello che ciascuno di noi può portare nell'organizzazione rivedere la mission tutte le volte che ne sentiamo l'esigenza tutte le volte che ci sembra che la barra non sia tenuta pienamente dritta il tempo cambia molte cose nella vita e io ritengo che sia anche una fortuna poi siamo entrati nel dettaglio delle persone perché ovviamente il fundraising è un'azione che coinvolge le persone noi come persone che chiediamo un sostegno ad altre persone ma c'è anche una terza persona che è il beneficiario del nostro progetto quindi le tre P la persona che chiede a una persona che può sostenere può donare per aiutare una terza persona non dimentichiamoci mai della dimensione umanistica se volete di tutta la nostra attività ci sono al centro solamente le persone assolutamente le persone ed è un bene che sia così perché le persone come dicevamo prima sono portatrici di storie le persone possono essere rappresentate le persone contengono molte molte sfaccettature tutte assolutamente utili per presentare al meglio le nostre iniziative dove sono i nostri donatori questa è la domanda alla quale cercavamo di rispondere in questo passaggio prospect per chi oggi è venuto a trovarci e ieri non c'era prospect è un termine anglosassone che determina il soggetto già a conoscenza della nostra iniziativa della nostra associazione di quello che facciamo ma che non è ancora diventato un nostro sostenitore per una persona a noi molto cara che stiamo valutando nel senso che stiamo cercando di raccogliere di lui informazioni pubbliche che ci possano indicare quanto è la sua propensione a sostenere la nostra iniziativa quanto i suoi valori corrispondano con i nostri valori dobbiamo indagarlo chiedendoglielo molto semplicemente intessendo un dialogo che durerà nel tempo come un balletto a due come un ballo a due la metafora anche di una storia d'amore dall'infatuazione all'innamoramento magari arrivando fino al compimento della storia d'amore ebbene il prospect è una persona a noi vicina dove dobbiamo cercarla dobbiamo cercarla molto vicino a noi è molto forte potenzialmente il suo sostegno ed è incredibilmente vicina alla sua posizione quindi cominciamo a ragionare sulle persone che ci sono accanto anche gli amici anzi soprattutto gli amici i parenti se partiamo da zero per avere un sostegno economico dobbiamo sicuramente partire dalle persone a noi molto molto vicini molto molto affini dopodiché possiamo ragionare sui rami di collegamento e di relazione che tutte queste persone tra loro hanno e ampliare il cerchio e il bacino dei nostri potenziali sostenitori ma è un lavoro di lunga lena come abbiamo visto ieri che ha bisogno di aggiornamento costante di mantenere pulite diciamo così le nostre liste di contatto dobbiamo mettere ogni volta un aggettivo nuovo dobbiamo aggiornare i passaggi ci siamo incontrati a un evento che abbiamo organizzato è venuto portando qualche amico questo amico entra magari nella nostra lista e a lui ulteriormente chiederemo se ha interesse alle nostre iniziative alla nostra mission e successivamente se ha interesse anche a sostenerle economicamente dobbiamo valutare il grado di interesse magari qualcuno ci è capitato solo perché l'amico lo ha portato oppure qualcuno ci è capitato proprio perché comincia a essere incuriosito e allora noi dobbiamo fornire gli informazioni materiale per incuriosirlo ancora di più per convincerlo della sua scelta magari per coinvolgerlo soprattutto tutte le persone possono essere potenziali sostenitori tutte le persone che hanno avuto almeno uno o due contatti con noi possono essere potenziali sostenitori nel senso che possono portare denaro banalmente sostegno economico ma possono anche magari entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro o come volontari in maniera un po' più soft con la loro disponibilità di tempo variabile magari non sempre piena oppure possono diventare nostri collaboratori entrare a far parte proprio del team di lavoro perché hanno delle competenze specifiche hanno delle conoscenze che noi non abbiamo quindi ampliare anche la nostra visione complessiva sulla realizzazione del progetto e possono ancora di più presentarci ulteriori persone che possono sostenere in questi modi la nostra iniziativa sono tutte le persone con cui entriamo in contatto sono portatrici di relazioni individuali che noi dobbiamo in qualche modo considerare tenere tenere care tenere vive e analizzare con cura tutti e nessuno l'errore che spesso si fa è abbiamo un'idea talmente buona che tutti la sosterranno questo è un errore perché tutti non esistono perché al di là di quella porta ci sono un sacco di organizzazioni simili alla nostra che fra virgolette purtroppo fanno concorrenza sullo stesso piano della raccolta fondi ma anche sullo stesso piano dell'interesse allora noi dobbiamo specificare la nostra idea da un lato e dall'altro lato considerare che non tutti ci aiuteranno dobbiamo prendere coscienza di questo dato di realtà di conseguenza qualifichiamo al meglio il gruppo di persone che ci possono aiutare si possono fare anche delle stime delle stime contabili insomma abbiamo visto come i passaggi sono abbastanza semplici ma non ci devono demoralizzare perché se noi partiamo dall'idea che tutti ci aiuteranno e alla fine la nostra lista contiene 20 nomi probabilmente la depressione è dietro l'angolo invece dobbiamo avere il realismo di considerare che non si deve partire dall'universo mondo nella mischia c'è la nicchia di chi si somiglia nel senso che nella massa di persone noi dobbiamo andare a cercare la nicchia di individui che possono avere valori comuni al nostro interesse specifico per il nostro progetto possono essere potenziali beneficiari o avere a che fare in relazione molto stretta con i potenziali beneficiari del nostro progetto dentro questa nicchia quindi individuiamo persone che tra loro si somigliano e magari loro non lo sanno nemmeno probabilmente fuori da qui ci saranno persone che non si conoscono così bene ma che hanno motivi comuni per sostenere la nostra iniziativa e andiamole a cercare quindi andiamo a qualificarle e consideriamole come la base di sostenitori prima la primaria base di sostenitori per le nostre iniziative prima di fare qualunque cosa però come nel mondo civile noi nel mondo civile ci 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 muoviamo dobbiamo chiedere il permesso probabilmente molti di noi che già hanno a che fare con altre persone come sostenitori come contatti eccetera eccetera magari non ci siamo mai posti il problema di chiedere il permesso abbiamo il permesso di inviare a questa mailing list le nostre comunicazioni glielo abbiamo mai chiesto molto banalmente dobbiamo chiederglielo perché così abbiamo la sicurezza che queste persone sono effettivamente interessate alla nostra iniziativa le mailing list pletoriche quelle che raccolgono gli indirizzi privati dei cinque componenti del direttivo rischiano di avere al loro interno numerose numerose persone che non hanno mai letto la nostra comunicazione e che l'hanno quindi ricevuta senza volerlo come le telefonate facciamo l'esempio ieri come le telefonate dei gestori telefonici che ci chiamano in casa ci propongono le loro offerte commerciali e noi non gli abbiamo mai dato il permesso se a noi da così tanto fastidio e voglio sperare che anche a voi dia così tanto fastidio figuriamoci a diventare noi insomma gli attori di questa intrusione un po' forzata nel privato degli altri anche solo attraverso una mail non è solo una questione di buona educazione è anche il centro della qualificazione della pulizia delle nostre liste di contatti le nostre liste di contatti pulite sono liste di contatti in cui tutti ci hanno dato il permesso tutti sono consapevoli del fatto che noi gli manderemo una comunicazione sia essa una comunicazione informativa sia essa una comunicazione per la convoca dell'assemblea dei soci aperta anche a tutti sia essa una richiesta di sostegno magari economico nelle forme che poi vedremo tutte le persone consapevoli sono persone che hanno dimostrato un interesse esplicito parlavamo anche di legge insomma la legge consente l'invio di una prima comunicazione per esempio quella in cui richiediamo il permesso senza che ce l'abbiano dato dalla seconda in poi rischiamo di essere in difetto rischiamo di essere anche in difetto ripeto perché la nostra lista contiene persone che potenzialmente o ci hanno già messo nel loro sistema di posta nel loro client di posta come spam perché magari gliene mandiamo troppe e non ci vogliono mai leggere oppure che guardano il titolo e ci buttano via ed è inutile è uno spreco di tempo mandare mail a gente che non la leggerà o mandare posta cartacea a gente che non ci ha dato il permesso è una spesa inutile in carta in francobollo e in tempo per compilare imbustare e spedire la lettera noi abbiamo bisogno di qualificare al meglio il tempo e il denaro che impieghiamo nelle nostre iniziative quindi non sprechiamo le cose chiediamo il permesso nel permesso sta la prima tappa del viaggio d'amore che in qualche modo metaforicamente abbiamo visto ieri ed è la relazione tra noi e i nostri potenziali sostenitori un viaggio che è fatto di contatti successivi che dovrebbero portare fino alla richiesta esplicita di un sostegno economico questi passaggi sono passaggi che hanno non hanno un tempo codificato e definito dobbiamo capire noi quando la relazione come normalmente ci succede quando la relazione è arrivata a un punto in cui merita fare un passo successivo magari dicevamo che il primo segnale è banalmente un like a una foto o a una comunicazione che abbiamo postato o l'invio di un ok dopo la richiesta di ricevere comunicazioni da parte della nostra associazione quello è il primo passaggio il secondo passaggio probabilmente è qualcosa che ha più a che fare con un chiaro segnale di interesse mentre il like è una cosa che si dà senza pensarci troppo se si esplicita il segnale di interesse a quel punto abbiamo superato la prima fase e possiamo approfondire siamo più sicuri che le comunicazioni successive effettivamente interesseranno questa persona la interesseranno a tal punto che è probabile che ci darà un feedback a sua volta e se non ce lo dà chiediamoglielo chiediamogli cosa ne pensa chiediamogli ma di questa nostra idea progettuale hai qualche giudizio ti interesserebbe partecipare magari ti interesserebbe incontrarci così te la possiamo spiegare meglio a quattro occhi perché così si deve fare in una relazione se non c'è uno scambio non si tiene calda la questione vuol dire che non ci interessa ma non interessa davvero mantenere calda quella relazione e poi possiamo arrivare addirittura al terzo step che è quello della sollecitazione esplicita e diretta di un sostegno economico abbiamo visto ieri che chiedere è sempre una cosa complicata umanamente individualmente molto complicata in generale chiedere soldi lo è ancora di più e noi ne siamo pienamente consapevoli però abbiamo dalla nostra parte la bontà della nostra idea non è solo l'idea progettuale ma è proprio la mission in generale che ci muove l'idea per il bisogno al quale noi cerchiamo di dare una risposta ci copre molto bene le spalle non dobbiamo metterlo davanti dobbiamo sapere però che c'è perché noi parliamo comunque a persone e siamo persone non siamo idee filosofiche che parlano con le persone dobbiamo sempre considerare il rapporto individuale e personale come un valore molto forte verso la riuscita insomma dell'ottenimento di ciò che richiediamo però al tempo stesso chiedere continua a essere molto difficile e chiedere soldi lo è ancora di più dicevamo prima noi chiediamo un sostegno economico solo quando abbiamo verificato che dall'altro lato c'è un interesse è quasi come capire quando la persona è pronta per ricevere una richiesta di denaro probabilmente la persona dall'altro lato ce ne siamo accorti dalla relazione che è andata avanti dall'interesse crescente dal fatto che ci ha fatto delle domande specifiche dal fatto che magari addirittura ci ha chiesto vabbè ma ragazzi ma e queste cose come riuscite a farle avete bisogno magari di un sostegno economico beh di fronte a una osservazione come questa la cosa successiva è beh certo che abbiamo bisogno di un sostegno economico se tu fossi disposto a darci una mano ti potremmo volentierissimo spiegare come queste cose succedono succedono se si è coltivato per bene il rapporto personale fin dai primi passi non si può pensare che la prima cosa è chiedere soldi perché frena blocca e chiude assolutamente le possibilità tra l'altro una richiesta esplicita al primissimo momento ti preclude molto la possibilità che alla stessa persona potrai richiedere in futuro perché perché si è rotto qualcosa perché non c'è stata armonia nella relazione nel rapporto purtroppo la cioè come dire scusate la povertà della metafora però è davvero è come un rapporto amoroso uscire la prima sera e chiedere di andare in terza base come dire è un po' insomma non è molto elegante e probabilmente rischia di ricevere una porta in faccia molto rumorosa e siamo proprio qui siamo alla fase della proposta di quanto chiedo cioè la domanda era quanto chiedo perché giustamente noi non è che abbiamo tutta questa dimestichezza con le richieste economiche e quanto dobbiamo chiedere agli individui qua ovviamente aggiungo una cosa noi nella lezione di ieri ma anche oggi ragioneremo spessissimo sulla richiesta di sostegno economico a individui non stiamo parlando di enti non stiamo parlando del comune della banca della fondazione e neanche tanto delle aziende come sponsor eccetera qua stiamo parlando proprio della raccolta fondi da individui quindi tutto un altro pianeta molto più bello secondo me molto più ricco molto più impegnativo anche ma che dà soddisfazioni molto più forti perché insieme al denaro tu hai un rapporto con una persona che può darti come dicevo prima anche una mano ti può materialmente aiutare può dedicare il suo tempo alla tua iniziativa e noi tutti sappiamo quanto bisogno di aiuto e di tempo degli altri abbiamo per portare avanti i nostri progetti la proposta economica come quantificarla? beh l'idea era quella di spezzettare il nostro progetto in tante parti fino a raggiungere una quota economica anche piccola però rappresentativa e significativa mi spiego meglio noi non possiamo pretendere che non possiamo pretendere realismo e condivisione a un progetto che dica signora con i suoi 20 euro lei costruirà un ospedale in Africa non è vero non è possibile cioè 20 euro anche con il cambio più favorevole del mondo non costruiscono un ospedale in Africa e allora invece di rappresentare il nostro progetto per intero l'ospedale in Africa rappresentiamo le singole parti materiali concrete realistiche logiche che possono permettere la costruzione se diciamo alla signora guardi con 20 euro ci può può donare un bancale di mattoni a quel punto è molto più realistico è molto più vero è molto più sincera anche la richiesta noi dobbiamo prendere il nostro progetto capirne il fabbisogno economico logicamente spezzettarne le singole parti e rappresentarle con una fotografia con un racconto spiegando per bene a che cosa serve quel piccolo progetto nell'economia quel piccolo bene nell'economia complessiva del progetto a quel punto sì che la richiesta ha senso a quel punto sì che noi abbiamo più chiaro il meccanismo della richiesta e la persona che riceverà la nostra richiesta economica dice beh però accipicchia è davvero utile questo bene che loro mi richiedono e la spesa economica è alla mia portata perché il discorso sul quanto chiedo deve considerare per esempio delle differenze perché anche il donatore vuole essere giustamente considerato non come un bancomat ma come una persona che può incidere fortemente nella realizzazione del nostro progetto noi dobbiamo costruire la cornice entro la quale il potenziale donatore entra come un eroe che aiuta a risolvere veramente il problema per mezzo dei suoi denari però nella rappresentazione lui è risolutivo e quindi dobbiamo dare molto valore alla sua donazione dalla più piccola alla più grande dobbiamo dare un valore reale ovviamente sarà diverso se uno dona 10 euro non è la stessa cosa che donare 500 euro per il nostro progetto però anche quei 10 euro hanno un significato materiale una rappresentazione fisica che ha molto significato facevamo per esempio ieri l'esempio della donazione al non so penso a Medici Senza Frontiere insomma quelle iniziative che si occupano di salute nei paesi del terzo mondo una piccola donazione compra una zanzariera e può salvare dalla malaria due bambini una donazione più grande compra un kit di vaccini che possono salvare 80 bambini del villaggio però allo stesso modo è la vita del bambino al centro di entrambi i temi nella rappresentazione piccola così come nella rappresentazione più grande il nostro sostenitore può incidere e aiutare a salvare la vita e ai bambini allo stesso modo poi deciderà lui se è nella sua disponibilità la spesa più grande più bambini la spesa più piccola meno bambini ma il motivo per cui lui interviene è comune è simile anzi è proprio lo stesso a questo punto il meccanismo che ci porta a relazionarci con il nostro potenziale donatore deve essere quello del prendere rinnovare e aumentare dobbiamo prendere la prima donazione ottenuta la prima donazione dopo un po' di tempo dobbiamo lavorare alla ricerca del rinnovo dobbiamo mantenere caldo il rapporto con questo sostenitore ringraziandolo moltissimo e nel tempo più breve possibile dandogli tutte le informazioni utili per lo sviluppo del progetto come stanno andando avanti le cose cosa stiamo facendo cosa abbiamo in animo di fare cosa abbiamo materialmente comprato con i denari che lui ci ha mandato dobbiamo mandare la fotografia per esempio noi stiamo facendo una raccolta per non lo so faccio per dire proprio comprare materialmente delle cose comprare un pulmino che ci serve per fare trasporto di dicevamo ieri l'esempio del trasporto dei ragazzini disabili da casa a scuola o da scuola a fare attività sportiva eccetera ebbene quando facciamo questa raccolta appena abbiamo raggiunto il nostro risultato foto del pulmino e immediatamente inviarla a tutti i sostenitori quasi come scrivendogli magari sopra anche sulla fiancata il nome il nome di battesimo di tutti i sostenitori scriverlo sulla fiancata insomma fare sì che loro siano non solo soddisfatti ma che soddisfino il loro bisogno di essere ricordati per l'aiuto che ci hanno dato perché in effetti è vero ci hanno dato un aiuto che merita di essere ricordato così tanto rinnovare il dono è l'obiettivo al cui dobbiamo tendere non dobbiamo limitarci alla prima donazione e a rivederci a tutti ma dobbiamo continuare a coltivare il rapporto fino a raggiungere un potenziale rinnovo in un tempo non so dirvi secondo me anche sei mesi può essere un buon tempo per chiedere un rinnovo non bisogna essere non bisogna pensare in tempi tanto lunghi anche tempi relativamente brevi per un rinnovo della donazione anche perché il nostro bisogno di denaro se i progetti pesano se i progetti vogliono essere portati avanti e anche implementati c'è bisogno comunque di un flusso abbastanza robusto di risorse economiche e poi dopo un po' di rinnovi dobbiamo farci coraggio e chiedere l'aumento della donazione perché probabilmente il nostro donatore noi siamo pronti a chiederglielo ma lui è pronto a soddisfarci probabilmente studiando i nostri dati che dobbiamo sempre raccogliere e tenere a mente probabilmente abbiamo visto che dopo due o tre rinnovi della stessa cifra se aumentiamo un pochino la risposta potrebbe essere positiva e noi avremo un sostenitore che con una quota ancora più robusta dobbiamo considerare lo accennavo prima le ricompense le ricompense possono essere fisiche o anche morali abbiamo visto e lo affronteremo questa mattina il tema del crowdfunding dove merita di più anzi è proprio fondamentale del meccanismo corrispondere una ricompensa fisica un oggetto qualcosa di materiale qualcosa di reale per il sostegno accordato nella raccolta fondi ordinaria diciamo così quella su progetti che hanno una durata più lunga più ampia magari anche una platea più grande o fa bisogno economico più grande le ricompense morali possono essere utili altrettanto non è possibile magari realizzare fisicamente qualche cosa da mandare al sostenitore ma la ricompensa morale che parte da un grazie fino ai meccanismi perché il sostenitore venga ricordato nel tempo sono quelle più più corrette dopodiché abbiamo parlato della praticità la praticità anche in questo caso è all'interno dell'organizzazione così come all'esterno la praticità è scegliere per una volta nella nostra vita la via breve ovvero fare sì che il nostro sostenitore abbia la vita più semplice possibile se vogliono aiutarci mettiamoli nelle condizioni di aiutarci nel modo più facile per esempio meccanismi di raccolta fondi abbiamo solo la sede aperta e la cassettina dove mettere l'offerta abbiamo solo la sede aperta un pomeriggio alla settimana per fare la tessera non va bene è troppo poco abbiamo bisogno di aiutare il sostenitore a essere aiutati insomma ad aiutarci anzi dobbiamo aprire il conto corrente dobbiamo mettere l'Iban su tutte le nostre comunicazioni dobbiamo aprire una posizione Paypal sul nostro sito così che con un semplice click e la carta di credito ci possono aiutare dobbiamo trovare tutti gli strumenti possibili valutandone ovviamente i costi tutti gli strumenti possibili per il sostegno dobbiamo far sì che lui nella massima comodità ci aiuti e ci sostenga e tutte le aggiungo che tutte le rappresentazioni del nostro progetto lo spezzettamento in quote e la rappresentazione fisica di che cosa si compra a che cosa servono quei singoli denari devono essere tutti ricondotti a questi meccanismi nel senso che se noi facciamo un pagamento su Paypal dobbiamo dare le diverse opzioni di donazione insomma la consistenza della donazione rapportata a quello che abbiamo detto prima non dobbiamo dimenticarci che anche sulle altre piattaforme a denaro deve corrispondere il nostro oggetto la rappresentazione fisica perché altrimenti c'è un po' di distonia non so come dirvi se sul sito abbiamo fatto quella bella narrazione quella bella rappresentazione di cosa compriamo con 10 con 25 con 50 con 100 euro allo stesso modo sulle altre piattaforme non possono trovare la cifra a quel punto dobbiamo riportare sempre quella doppia valenza insomma della cifra a questo punto quindi ci siamo posti di problema ma se noi abbiamo il dubbio di quanto chiedere molto probabilmente anche il nostro sostenitore ha il dubbio su quanto deve donare e noi dobbiamo metterlo nelle condizioni di saperlo di darsi una risposta se noi gli proponiamo aiutaci come puoi non servirà a nulla perché lui rimarrà nella stessa situazione di EMPAS che aveva prima allora di nuovo anche qui dobbiamo esplicitare al massimo i nostri fabbisogni e le rappresentazioni delle nostre degli oggetti delle cose dei beni o delle parti di progetto non lo so con 30 euro permetterai al nostro pulmino di fare 100 chilometri anche una rappresentazione di questo tipo non un bene da comprare ma se il nostro lavoro è portare una persona quindi fare della strada le nostre quote di donazione sono i chilometri che il pulmino potrà compiere una cosa di questo tipo e essere espliciti aiuta sempre non nascondiamo le nostre idee le nostre iniziative al donatore che è davvero la persona con cui abbiamo una relazione forte alle persone con cui ciascuno di noi nella vita privata alle persone con cui abbiamo una relazione forte noi non nascondiamo le cose allo stesso modo il tema della relazione il sostegno al progetto al donatore dobbiamo dire tutto quello che è importante per quel progetto e non dobbiamo autocentrarsi mai cioè non dobbiamo pensare che i nostri sostenitori vogliono quella roba lì e basta a loro è sempre andato bene portarci la quota associativa in sede non abbiamo bisogno di fare altro non è vero perché non gliel'hai mai chiesto probabilmente i tuoi sostenitori nel tempo sono cambiati probabilmente a loro non va più bene doversi muovere per arrivare solo fino alla tua sede magari i tuoi sostenitori adesso usano l'home banking usano la carta di credito per fare acquisti e quindi faccio l'esempio più semplice che è quello della tecnologia e quindi tu non puoi pensare solo con la tua testa devi davvero pensare in questo caso con la testa dei tuoi sostenitori e rendergli la vita più semplice ampliare le possibilità e un altro meccanismo per rendergli la vita più semplice per rendere la vita più semplice fuori ma per renderla più semplice anche all'interno dell'organizzazione e per esempio sfruttare la tecnologia a livello organizzativo e quindi utilizziamo tutti i software che si trovano in rete tutte le facilitazioni possibili per alleggerire la fatica del lavoro quotidiano nella nostra organizzazione utilizziamo Dropbox per scambiarci il documento con le correzioni invece di invii compulsivi di mail con una lista di allegati che non finisce più e di reply infinito utilizziamo Skype per le comunicazioni anche con il socio che proprio quel giorno lì che facciamo l'assemblea deve preparare l'esame chiediamogli magari di prendersi una pausa un quarto d'ora in cui affrontiamo il punto dell'ordine del giorno che lo vede direttamente coinvolto e anche se fisicamente non è con noi può dire la sua e così non perdiamo un altro giro di assemblea con i nostri con i nostri soci o con il direttivo insomma rendiamoci la vita più semplice nel momento in cui la renderemo più semplice a noi avremo capito la logica per renderla più semplice anche ai nostri sostenitori il tema caldo è quello della prova dei fatti e arriviamo quasi alla conclusione di questo recap la prova dei fatti è un problema molto forte che ha a che fare con i pregiudizi e che ha a che fare anche con ovviamente con l'immagine che tutte le nostre organizzazioni non profit diciamo hanno all'esterno se esiste un consumo critico per i beni del mercato alimentari e non solo cioè se noi tutti come consumatori stiamo attenti all'etichetta siamo attenti a come quella data azienda tratta i lavoratori consuma il suolo inquina eventualmente eccetera non dobbiamo dimenticare che anche la donazione è diventata critica da un po' di tempo a questa parte cioè il sostenitore vuole sapere le cose vuole sapere dove vanno a finire i suoi soldi il rischio è che voglia sapere solo quello cioè non vada al di là del tema dove vanno a finire i soldi non arrivi al tema ma a cosa serve la cosa che state facendo chi sono i beneficiari qual è il bisogno al quale state rispondendo ma si fermi solo alla dimensione economica quello è un rischio però dobbiamo in qualche modo correrlo e dobbiamo in qualche modo educare anche i nostri sostenitori a interessarsi sempre di più anche a quella seconda parte del tema cioè il bisogno che andiamo a soddisfare ci sono dei pregiudizi i pregiudizi per esempio sono quelli legati al fatto che un'organizzazione non profit deve essere per forza povera un'organizzazione non profit deve per forza non pagare gli stipendi fate volontariato non avete bisogno di soldi non è così perché spesso pur facendo molto volontariato c'è bisogno di pagare dei professionisti perché il servizio che noi vogliamo dare i bisogni a cui dobbiamo rispondere sono così grandi che hanno bisogno di professionisti il rischio è che ci siano professionisti che non lavorano bene e che facciano lo stesso lavoro che farebbero i volontari solo costando un po' di più e questo è un problema che dobbiamo cercare di evitare lo dobbiamo evitare nella gestione della nostra organizzazione anche perché va tutto a scapito del fundraising va tutto a scapito dell'immagine pubblica che noi possiamo avere guardate lo dicevo ieri per una organizzazione che fa la furba che utilizza male il denaro che ha opacità nei bilanci che non soddisfa il bisogno raccoglie i fondi per i bambini in Africa ma in realtà è una truffa legalizzata o non legalizzata ma non ancora scoperta per una sola di queste organizzazioni se finisce sul giornale se finisce in televisione è successo se riesce a notizia tante cose sono usciti anche tanti libri sulla gestione economica delle onlus per una sola è il dramma è la bomba atomica su tutto l'intero sistema ci vanno di mezzo tutti perché la gente non fa distinzioni perché non ha tempo probabilmente di fare distinzioni o neanche gli interessa va a scapito di tutto il sistema crolla ancora di più una fiducia che già in Italia è un po' ai minimi storici per colpe interne che vanno denunciate e sottolineate ma nessuno fra virgolette si può credere assolto nel senso che bisogna avere grande attenzione su come gestiamo le nostre cose grande trasparenza e completezza di informazioni quando comunichiamo all'esterno comunichiamo i bilanci comunichiamo quanto abbiamo realizzato i benefici che abbiamo portato l'unica strategia vincente è prendere d'anticipo il mattino cioè dare le informazioni prima ancora che ci vengano chieste essere non so davvero puliti perfetti ordinati puntuali efficientissimi e professionali purtroppo viviamo in un contesto dove ripeto c'è una grande e forte carenza di fiducia e l'unico modo per vincerla è dimostrare che siamo davvero inattaccabili e quindi bisogna lavorare fin dall'inizio in questa direzione se non abbiamo le carte in regola è un problema dobbiamo stare molto attenti ci sono situazioni che possono essere recuperate ma dobbiamo darci da fare subito dobbiamo avere i bilanci in ordine dobbiamo essere professionali se c'è bisogno di professionalità dobbiamo dimostrare appunto che i nostri progetti sono serviti a qualcosa e dobbiamo dimostrare bene come abbiamo speso i soldi facevo l'esempio l'altro giorno secondo me bisogna essere un po' duri in questa fase e se qualche volontario mette per esempio in nota spese come rimborso alla fine del mese anche i chilometri che percorre da casa sua alla sede dell'associazione considerandoli parte del lavoro questa cosa non va bene siamo in una fase un po' dura dobbiamo smettere anche di fare questo secondo me è una presa di posizione che mi sento di appunto proporvi messa in discussione senza problemi però dobbiamo anche metterci un po' di sacrificio già ne facciamo tanto mettiamocene un goccino in più per recuperare la fiducia degli altri ovviamente quando facciamo queste cose è bene dirle non per vantarsi ma per raccontare che cosa facciamo quotidianamente per dire come spendiamo i nostri denari per dire che per esempio nel nostro progetto ci sono dei costi di struttura il famoso ragionamento sul fatto che i costi di struttura vanno divisi e differenziati dai costi di realizzazione del progetto no io penso che siano tutti lo stesso costo sono i costi di realizzazione del progetto anche qui scusate se mi ripeto ma l'esempio della segretaria che viene considerato un costo accessorio e probabilmente inutile in realtà la segretaria è pienamente parte del progetto al 100% perché chi dovrebbe rispondere al telefono l'operatore che sta spingendo la carrozzina e dice al ragazzo disabile aspetta un attimo che devo rispondere al telefono e che magari si è fatto fare la deviazione di chiamata sul suo cellulare non credo proprio credo che anche le segretarie al 100% facciano parte del nostro progetto e dobbiamo piano piano un po' per volta con i fatti togliere dalla testa dei sostenitori che le spese di struttura siano spese inutili dobbiamo cercare di comprimerle dobbiamo cercare di mantenerle pulite ma non bisogna fare come dire col falcione togliere tutte le spese di struttura perché molte sono assolutamente necessarie alla realizzazione del progetto e poi alla fine siamo arrivati a ciò che ci fa alzare dal letto ogni mattina ovvero i prego che le persone che ci hanno sostenuto e che abbiamo ringraziato tantissimo nei modi più diversi e questa mattina vedremo alcune idee di ringraziamento tutte le volte che questa persona ci dice prego ovvero è contenta di aver donato ed è contenta del fatto che noi l'abbiamo ringraziata rispondendoci con prego questa è la nostra benzina dobbiamo contabilizzare i prego e farli diventare numerosissimi sempre di più dobbiamo andare a caccia di prego bisogna mirare al prego e quella è la nostra missione forte dobbiamo sfruttare tutte le occasioni possibili per coltivare il rapporto come dicevo anche quelle che non ci sembrano propriamente legate però se incontriamo per caso un sostenitore una persona che conosciamo e che affine la nostra iniziativa spendiamo due minuti con lui teniamolo aggiornato gli farà piacere senza dubbio gli farà piacere essere aggiornato perché se ci ha sostenuto vuol dire che ci crede e se ci crede vuol dire che ha a cuore proprio la nostra idea e forse non aspettava altro che avere da noi degli aggiornamenti delle informazioni la richiesta magari di un coinvolgimento se annunciamo un incontro se anticipiamo guarda stiamo lavorando a un incontro non abbiamo ancora mandato gli inviti però tieniti libero per il mese di aprile perché stiamo organizzando una cosa bene questo fa parte di tutta quella strategia di coltivazione del rapporto di incremento del rapporto farlo sentire davvero parte del progetto parte della nostra organizzazione la risposta a tutto che ieri ho anticipato e che però alla fine ma non solo alla fine se uno si chiede che cosa è meglio fare di tutto questo la risposta è dipende ed è la risposta secondo me a tutti i problemi della vita insieme a 42 però è davvero la risposta dipende dipende da 100 fattori dipende da che organizzazione siamo da che persone siamo da chi è il nostro interlocutore dipende da che punto è il progetto da quanto pesa il progetto da cosa significa il progetto e anche dipende da come abbiamo lavorato nel frattempo quindi io non sono qui per darvi delle risposte ma per darvi degli spunti di ragionamento sulle cose che state quotidianamente facendo anche per verificare che le stiate facendo bene probabilmente voi le state facendo bene anzi sono quasi certo che le stiate facendo bene ci sono solo dei piccoli accorgimenti bene proviamoli e vediamo se funzionano se non funzionano se funzionava meglio la via precedente continuiamo a perseguire la via precedente perché la regola che sta intorno a tutto è che quello che funziona funziona non ci sono tabelline o leggi fisiche in tutto questo ma quello che funziona funziona se sulla nostra pelle abbiamo provato il risultato di un modo di agire bene perseguiamo quel risultato e continuiamo ad agire in quel modo lì perché nessuno ci impone di cambiare se non c'è bisogno di cambiare e quindi arriviamo al decalogo dei meccanismi o delle proposte per ringraziare il donatore io lo vedrei più tardi nel senso che adesso mi piacerebbe che facciamo insieme un bel respiro e passare quindi la palla a voi mi scuso se ho corso tanto ma mi serviva aggiornare le due persone che ieri non c'erano e quindi dare un'infarinatura almeno dei temi che abbiamo affrontato l'idea la ripeto per tutti mi piacerebbe che questi nove temi questi spunti complessivamente sui quali ieri e questa mattina per ora abbiamo ragionato venissero calati da ciascuno di voi nella realtà a cui si sta applicando o al progetto che fa parte di questo laboratorio al project work che in qualche modo forse state elaborando o siete in via di elaborazione insomma qualche spunto per sapere come poter applicare alcune di queste idee se vogliamo lavorare singolarmente per me va benissimo ci diamo 15 minuti insomma di tempo per scrivere due appunti e poi un intervento a testa e attiviamo il dialogo ok? grazie se vi è tutto chiaro quello che abbiamo visto oggi ancora questa ripresa di di temi io sono qui non scappo ok? grazie a tutti grazie a tutti